Siete le prese con il primo acquisto della vostra batteria? Siete principianti e non avete lo spazio adeguato per mettere una batteria acustica? In questo video vi metterò davanti pro e contro di batterie acustiche ed elettroniche e cercherò di indirizzarvi adeguatamente per il vostro primo acquisto. Sicuramente alcuni aspetti che dovrai prendere in considerazione sono la location in cui abiti quindi se hai uno spazio adeguato per tenere una batteria acustica. Valuta anche la possibilità se hai un garage o una cantina di poter fare qualche piccolo lavoro di insonorizzazione per l'esterno appunto per attutire poi il suono che percepiranno i tuoi vicini. Altro aspetto importante è proprio avvicinato se magari i tuoi vicini richiedono tranquillità o se puoi anche magari qualche ora al giorno permetterti di studiare. Sicuramente è da valutare anche in che fascia del giorno ti puoi permettere di studiare. Altro punto importante è anche il budget che hai a disposizione per l'acquisto della tua prima batteria. Questo va a incidere sia sul discorso dell'acustica ma principalmente su quella della batteria elettronica. Già un punto negativo della batteria elettronica troviamo batterie elettroniche economiche ma attenzione consiglio fin da subito di prendere una batteria che almeno per quanto riguarda la cassa abbia un pad e l'utilizzo del tradizionale pedale. Potrebbe essere un problema per quando poi passerai a suonare la batteria acustica che non avrai lo stesso controllo e quindi lo stesso ritorno del pedale. Visto che siamo sul discorso della batteria elettronica guardiamo subito i pro e i contro. Un punto negativo delle batterie elettroniche entry level quindi economiche è sicuramente la sensibilità sui pad. Sì perché almeno che tu non abbia un budget abbastanza sostenuto per poterti permettere batterie che a livello di dinamica hanno una risposta migliore nelle batterie economiche è facile che sia che tu suoni forte sia che suoni piano il volume del suono è sempre identico. Quindi questo qui è un aspetto da valutare e anche qui vi consiglio quando andate ad acquistare la batteria di provarle. Se proprio proprio non trovate una batteria economica che faccia il caso vostro potete su internet trovare anche magari degli usati di qualche anno fa di batterie che ti permettono di avere questa caratteristica. Se poi vorrai anche lavorare sulla ricerca del tuo suono la batteria elettronica purtroppo non te lo permetterà quindi il tuo lavoro sarà molto limitato. Altra nota dolente se tu col tempo decidi di fare dei live dovrai poi fare un altro acquisto di una batteria acustica per andare a suonare in giro. Se il tuo budget iniziale non te lo permette valuta bene un po' le opzioni. Ricordati che con le batterie elettroniche entry level è sicuro che quando tu arriverai a certe velocità i tuoi pad non riceveranno tutti i colpi. Quindi attenzione potresti rimanere molto deluso. Dopo tutte queste note dolenti che poi vedremo anche per la batteria acustica guardiamo i pro della batteria elettronica. Lo spazio che tiene è una delle sue caratteristiche positive per eccellenza. Puoi metterla dove vuoi ci sono batterie che riesci anche a piegare mettere in un angolo e non ti occupano spazio. Ottima per gli appartamenti se non hai appunto a disposizione cantine, garage oppure se non abiti in campagna. Per lo studio va sempre bene. Cose molto importanti come la coordinazione e l'indipendenza puoi assolutamente studiarle anche sulla batteria elettronica. Magari per quanto riguarda le mani puoi comprare a parte un pad d'allenamento per poterti esercitare appunto sui ruotimenti e sulla tecnica. Però la batteria per questi aspetti va benissimo. Nota positiva è che con una cuffia il gioco è fatto. Si sentirà un leggero rumore quando suonerai i pad piuttosto che le pelli mesh ma comunque rispetto a una batteria acustica è tutt'altra roba. Al massimo ti consiglio se abiti in appartamento e hai inquilino anche sotto di te di mettere la batteria su tappetini antivibrazioni come quelle delle lavatrici. Questo ti permetterà appunto di isolare per non disturbare troppo il tuo vicino. Con la batteria elettronica avrai anche a disposizione tanti suoni anche per divertirti a suonare magari altri generi o magari anche per creare dei tuoi set da utilizzare a tuo piacere. Questi sono un po' gli aspetti principali per quanto riguarda la batteria elettronica. Passiamo alla batteria acustica. Sicuramente se gli spazi a tua disposizione non sono adatti la batteria acustica è appunto da escludere. Ma non sempre. Io consiglio se possibile l'acquisto della batteria acustica. La nota dolente della batteria acustica è appunto il volume dei tamburi e dei piatti quando vengono suonati. Per due aspetti. Attenzione ai vicini sono i più pericolosi. In commercio ci sono pelli e piatti che ti permettono di suonare avendo un volume molto limitato. Oppure anche dei tappetini adatti appunto ad insonorizzare e diminuire il volume di piatti e tamburi. L'unico sbattimento se appunto utilizzi anche la batteria per i live è se decidi di utilizzare le pelli mesh, quelle che non fanno rumore, è doverle cambiare ogni volta. Col tempo potresti anche trovare una location adatta poi a mettere la tua batteria. Se hai uno spazio a disposizione, una cantina appunto o un garage da poter leggermente insonorizzare e quindi magari creare una stanza, un box all'interno della stanza. Questo ti potrebbe aiutare appunto per evitare che il suono eccessivo venga percepito fuori da questa stanza. Sarebbe bellissimo. Avresti il tuo strumento a disposizione e potresti utilizzarlo come vuoi. Certo magari non di notte se hai dei vicini un po' rompiballe però di giorno qualche oretta te la puoi permettere senza problemi. Altro aspetto è abbiate cura del vostro udito. Quando suoni la batteria vengono prodotte delle frequenze che potrebbero a lungo andare danneggiarti il timpano. Proteggi le tue orecchie, tappi antirumore o cuffie. Comunque in questo caso il tuo strumento sarebbe a disposizione, potresti lavorare tranquillamente sul tuo suono, quindi lavorare sulle dinamiche ti permetterebbe di lavorare appunto su tante caratteristiche che difficilmente con la batteria elettronica riusciresti a fare. Attenzione, questo non significa che la batteria elettronica non sia un ottimo strumento per suonare e per esercitarsi. Ci sono pro e contro ma questi come avete visto ci sono sia per la batteria elettronica come per l'acustica. Una cosa molto importante e questo lo dico ai genitori che hanno magari dei ragazzini, dei figli che vogliono avvicinarsi a questo fantastico strumento. La maggior parte delle volte i genitori stessi cercano di allontanare i figli da questo strumento proprio perché è rumoroso e i vicini si lamentano. Insomma, tante cose che ahimè possono demolire l'aspettativa dei vostri figli. Non fatelo! Permetteteli di studiare questo fantastico strumento. Ci sono le opzioni che vi permettono di poter avere una batteria in qualsiasi casa voi abitate o in qualsiasi location, quindi stimolateli e dategli la possibilità di provarla. Anche perché se volete poi ci sono anche negozi che permettono il noleggio degli strumenti, quindi non sono costi eccessivi che poi potrebbero rivelarsi inutili perché magari lo strumento rimane in un angolo a prendere la polvere. Se è il vostro primo strumento e pensate che magari mi stufo oppure un domani non ho più tempo e quindi non lo utilizzerei e dovrei rivenderla, state su batterie di marca. Ormai il 90% delle marche che trovate in commercio producono batterie entry level, sia per quanto riguarda le acustiche che per le elettroniche. Quindi non andate a comprare marchi che nessuno conosce. In caso di rivendita potrebbe succedere che poi lo strumento vi rimane lì. Con una marca più commercializzata questo vi permetterebbe di poter rivendere il vostro strumento senza alcun problema. Qui sotto trovate alcuni link a batterie sia elettroniche ed acustiche adatte per il vostro primo acquisto, sia entry level che comunque a livello un po' più avanzato. Spero di avervi dato appunto qualche informazione utile. Se avete qualche ulteriore domanda lasciate appunto un commento e cercherò di rispondervi al più presto. Non mi resta che augurarvi un buon divertimento e quando avete la vostra batteria un buon groove. Ciao! Grazie!